Sicuramente è un doppio onore per Luigi Di Giosafatte parlare di un personaggio che ha fatto la storia di questo territorio, un territorio in cui vive anche Luigi Di Giosafatte. Assolutamente sì, posso definirlo un mio mentore. Il progetto di Confindustria Chiedi Pescara, il progetto editoriale, punta proprio a questo, a ricordare la memoria del professor Marco Tullio e dare alle future generazioni un esempio di grande uomo cristiano, di grande economista, di docente, di imprenditore e di manager. Come affronterebbe Marco Tullio la vicenda legata anche a questa crisi che vive l'Abrioni adesso e come affronterebbe la crisi legata anche alla pandemia? Lui nei suoi interventi che noi abbiamo selezionato, che vanno dall'86 al 2009, ha dato alcune indicazioni e ricette che sono validissime anche adesso. Oggi proverò con la platea a leggere alcune indicazioni che lui ha dato e ci renderemo tutti conto di quanto è stato anticipatore degli scenari economici globali e locali. C'è un aspetto tecnico di competenza del professor Marco Tullio che ha reso possibile che un'azienda diventasse importante nel mondo attraverso un modello organizzativo che ha consentito di esportare il bello e il fatto bene in tutto il mondo. E poi come uomo ha fatto tante cose perché oltre a essere un uomo molto attento al capitale umano, al valore delle persone, è stata una persona che ha dato molto anche nella divulgazione culturale, nell'associativismo, nel volontariato, quindi ha creato un sistema oltre che economico, un sistema sociale, un rapporto che oltre con i dipendenti l'ha avuto con i cittadini. È inutile dire che il professor Marco Tullio è una persona che ha dato tanto a penne ma soprattutto all'area vestina e oggi va ricordato con questo libro importante. Assolutamente sì, è stato importantissimo, non soltanto per il territorio, per l'area vestina a cui ha dato veramente tanto, ma per il mondo intero. Ricordiamo che il professor Marco Tullio è stato un grande anticipatore di temi economici, culturali, sociali, quindi tutto quello che ha fatto Marco Tullio negli anni addirittura 60 è arrivato nelle aziende in questi tempi, in questi anni. Quindi un grande valore, un uomo che merita di essere ricordato e il suo lascito assolutamente deve essere conosciuto dalle nuove generazioni.